Giovedì, al nord un ciclone attraversa le regioni. Giornata fresca con maltempo su Lombardia e nord-est, tutto sole in Piemonte, rovesci su Liguria di Levante. Temperature in diminuzione. Venerdì, una fresca perturbazione abbandona le regioni. Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto al nord-est ancora con precipitazioni, sarà tutto soleggiato altrove. Al centro, pressione in diminuzione. Tempo subito instabile su Toscana, Umbria, Lazio, con fenomeni anche di forte intensità. Temperature in calo generale, forti mareggiate. Venerdì, un ciclone autunnale transita sulle regioni. Giornata instabile con precipitazioni forti sulle regioni adriatiche e sul Lazio, soleggiato altrove. Venti forti da nord. Al sud, il tempo è destinato a peggiorare. Giornata da prima soleggiata, salvo piovaschi in campagna, solo verso sera peggiorerà fortemente sulle coste tirreniche. Bel tempo altrove. Venerdì, un ciclone fresco interessa le regioni. Giornata molto ventosa e fresca con precipitazioni a tratti molto forti, soprattutto sulle coste tirreniche. Mari anche agitati.